quanto ancora può durare questa fase di correzione dei mercati delle criptovalute ragazzi questa fase che ha portato in 1 2 3 4 5 giorni ha un po' di ribassino un po' atteso tutto quanto ne abbiamo parlato nei giorni scorsi è la fase di chiusura del ciclo mensile dei mercati compreso anche quello di Nasdaq 100 e potrebbe essere terminata o terminare a brevissimo allora qual è il modo giusto di andare ad operare e andare a fare alcune operazioni oggi guardiamo anche alcune operazioni di trading che ho fatto proprio qualche giorno fa volevo farvi vedere un po' quello che sto combinando andiamo a fare l'analisi ciclica di Bitcoin, Ethereum, Nasdaq 100 e poi vi faccio vedere anche questo grafico che è un grafico nuovo teoricamente perché ho visto che c'è un po' di spauracchio relativamente al concetto del Dat Cross Weekly che è avvenuto proprio questa settimana cioè tra la media mobile a 200 periodi e quella a 50 per la prima volta nella storia di Bitcoin la media a 200 periodi sul grafico settimanale a 50 periodi ha incrociato quella a 200 e ha dato vita al Dat Cross che cosa significa il Dat Cross sul mercato delle cripto nell'ambito del grafico settimanale che cosa potrebbe indicare nei prossimi giorni questo è tutto quello che vediamo oggi ragazzi tantissimi tantissimi questioni tantissimi dati da vedere e tantissimi grafici ma prima di andare avanti vediamo quelli che sono invece i dati di natura macroeconomica da attenderci nella giornata di domani principalmente prima però io lancio il Bitcoin se vi iscrivete al canale e lasciate un like e ovviamente attivate la campanellina l'avete fatto allora io lancio terza volta su tre ragazzi e che pip vabbè ok vabbè allora detto questo andiamo avanti crocevo le dita qualche altro giorno di sofferenza non lo so se il mio Bitcoin in questo caso ragazzi è prodice il futuro vi assicuro che lo brevetto e lo regalo a tutti quanti ma purtroppo non è così allora andiamo avanti per quanto riguarda la giornata di domani San Valentino con i dati della Federal Reserve per tutti gli innamorati dei mercati Powell non c'è però avremo i dati sulla inflazione che sono comunque molto rilevanti allora proprio la giornata di domani verrà rilasciato il dato sull'inflazione annuale mensile quindi l'IPC che è sicuramente il dato più rilevante della giornata di domani ma anche dell'intera settimana se non che ci sono anche altri dati che dovremmo andare a guardare proprio questa settimana che comunque potrebbe essere molto interessanti da un punto di vista di dato sul tasso di infrazione è previsto un ribasso dal precedente dato al 6.5 intorno al 6.2 perché questo dato è molto importante in questo caso proprio per questa settimana perché è un dato che i mercati guarderanno in maniera estremamente attenta per comprendere se conferma quelle che sono state le parole di Powell nella scorsa settimana cioè il processo di disinflazione è già iniziato ed è anche abbastanza forte Powell dice questa cosa i dati cosa dicono confermano che il processo di disinflazione è in stato avanzato che quindi stiamo uscendo dal periodo di iperinflazione teoricamente io credo che i mercati si aspettino che ci sia un dato anche inferiore a questo 6.2 e probabilmente i mercati sposeranno e festeggeranno se avremo un tasso di infrazione inferiore al 6% a quel punto secondo me si potrà vedere anche un po' di respiro nulla di stranissimo però è un dato confermativo nella giornata di domani alle ore 14.30 per chi è in Italia quindi orario Italia questi saranno i dati da tenere sotto controllo potrebbero effettivamente causare un po' di hype e un'impennata dei mercati qualora siano inferiori alle atteste secondo me sotto 6 i mercati vireranno in verde poi altri dati all'interno della settimana da tenere sotto stretta osservazione è sicuramente il discorso della Lagarde il mercoledì 15 che muoverà probabilmente anche quello che è il cambio euro-dollaro che si è assestato intorno allo 1.07 che è un dato adeguato comunque ragazzi poi nel corso delle prossime settimane andremo a fare anche un'analisi sul grafico euro-dollaro perché è un grafico molto interessante per tutto l'anno 2023 e ci indica un dato che è da tenere sotto controllo e poi avremo ragazzi per giovedì i dati delle richieste dei sussidi della disoccupazione dato estremamente rilevante perché è previsto in aumento di pochissime unità devo essere sincero quindi praticamente una stabilità però leggero aumento è previsto quindi potrebbe essere che i mercati possano avere una qualche reazione abbiamo visto comunque l'economia sulla parte occupazionale quindi i dati sul tasso di occupazione degli Stati Uniti estremamente forti aspettarsi qualcosa come crash improvvisi la vedo un po' eccessiva cioè quindi incrementi improvvisi del dato della disoccupazione perciò secondo me ragazzi l'unico vero dato che può far dare un hype ai mercati è quello di domani occhi puntati 14,30 dato sul tasso di infrazione deve essere inferiore al 6% se è più o meno in quella forchetta tra 6,2 e 6 secondo me cambia veramente poco passiamo a questo punto a quelle che è l'analisi classica ciclica di Bitcoin, Ethereum e Nasdaq 100 per quanto riguarda i cicli di breve periodo per questa settimana siamo nella fase di chiusura del ciclo mensile dei mercati delle cripto mentre andiamo a guardare, iniziamo questa fase del video con l'analisi invece di quelli che sono i cicli sul Nasdaq 100 perché ragazzi? Perché sembrerebbe proprio che il ciclo Nasdaq 100 l'abbia chiuso nella giornata di venerdì ora questa cosa non è ancora confermata chiaramente perché serviranno 2-3 giorni per almeno insomma servirebbe almeno una settimana diciamo così per stare al di sopra di questo minimo però potremmo considerarlo in questo momento un punto rilevante anche perché siamo a 27 barre e sono già 38 giorni compresi di weekend insomma sono già tanti per quanto riguarda il Nasdaq 100 però nulla pieta di aumentare appunto a 30 giorni di porza aperta quindi intorno al 15 quindi nel posto dato sull'infrazione e anche per questo ragazzi che è un po' molto rilevante il dato sull'infrazione di domani perché se il dato sull'infrazione di domani dovesse essere peggiore delle attese allora è possibile in effetti allungare quest'arco temporale al momento secondo me il tempo non ci dà una grande informazione perché comunque il tempo è scaduto tra virgolette quindi qualsiasi minimo è un minimo buono può fare una parte di risalita già da oggi in poi in Nasdaq 100 oppure anche scendere domani e dopodomani questo quindi ci dice e non ci dà un'informazione adeguata per operare cioè in sostanza non serve questa informazione in questo lasso di tempo quello che serviva era ragionare prima di questo minimo perché ora siamo a 27 barre sapevamo che dovevamo andare in chiusura del ciclo mensile così è stato fatto a questo punto bisogna ragionare di analisi tecnica guardare le candlestick e quello che fa il prezzo in questo momento sta provando un segnale di inversione è ovvio che già risalite al di sopra di 12.700 punti per quanto riguarda Nasdaq sarebbero estremamente indicative di possibile inizio di un nuovo ciclo mensile e al 100% superiori a 12.969 questa zona qua quindi 13.000 punti se sale sopra 13.000 punti ciclo mensile al 100% già iniziato questo è il dato che abbiamo su Nasdaq 100 come stanno reagendo invece i mercati cripto quindi bitcoin in particolar modo non è fortemente correlato in questa fase anche perché il tasso di correlazione di bitcoin condo standard punts 500 sta leggermente scendendo negli ultimi tre mesi e continua questa fase discendente si sta riposizionando verso la sua naturale il suo naturale livello 0.3 circa il tasso di correlazione di un mercato di un asset in generale con un altro asset è misurato da 0 a 1 ragazzi quindi più è vicino a 1 più il mercato è correlato più si allontana da 1 ed è vicino allo 0 più è non decorrelato ma non ha correlazione per essere decorrelato deve essere negativo il dato quindi questo probabilmente non avverrà mai quindi la decorrelazione fra bitcoin e standard e puls 500 probabilmente non avverrà mai però avremo una correlazione bassa ecco questo è concettualmente il discorso e così sta avvenendo quindi è anche possibile per i mercati delle cripto continuare un po' qualche giorno di maretta per la chiusura di questa fase ciclica di natura mensile certo è ragazzi che a livello temporale ci siamo considerate che stiamo chiudendo non solo un mensile ma anche un ciclo trimestrale che unisce praticamente tre mesi in questo caso io li ho settati a due mensili ma si potevano avere delle centrature cicliche diverse in questo caso rispetto a queste due fasi ma insomma era poca la differenza perché sostanzialmente qui c'è stata una grande spirale realzista quindi non mi andava di perdere tempo inutilmente a fare centrature senza senso perché tanto a livello di operativo è comunque la stessa cosa chiude il trimestrale quindi c'è poco da andare a fare allora qui questa struttura vedete porta 90 giorni intorno a domenica prossima quindi teoricamente potrebbe portare ancora una fase ribassista per tutta questa zona attenzione perché potrebbe essere o una fase di qualche giorno di ribasso o semplicemente oscillazioni tempo di prezzo che non modificano sostanzialmente il minimo avvenuto proprio nella giornata di oggi perché in effetti sì il mercato ha tentato diciamo una nuova fase di minimo a 21,7 questo è il grafico di Bitstamp aveva fatto un 21,4 e 54 e 21,4 e 76 nella giornata di oggi con questo doppio minimo su alcuni mercati invece il minimo è inferiore nella giornata di oggi questo perché i mercati cripto come bitcoin non hanno un prezzo regolamentato su tutti gli exchange quindi dipende sul dollaro insomma dipende gli exchange in sostanza va bene lo stesso certo è un po' azzardato quindi l'idea che possa tentare di scendere un altro pochino potrebbe starci però ragazzi siamo in fase di chiusura del ciclo mensile e anche per questo diciamo io ho iniziato un po' delle fasi di buy su bitcoin fortemente attenzionate perché sono contro trend in questa fase perché il trend di breve è ribassista però mi interessava salire su questo caro vi faccio tra le altre vedere anche alcune posizioni aperte su BitGet ragazzi sto utilizzando BitGet in questa fase per una serie di operatività di natura anche estremamente pro perché abbiamo agganciato uno dei nostri trading system anzi uno di quelli che più mi piacciono di tutti quelli che ho creato nella mia vita su per gli utenti academy in maniera automatica su BitGet e funziona egregiamente ce lo abbiamo da qualche mese ragazzi vi faccio vedere tutte le operazioni in questo momento attive proprio su BitGet su questo trading system che sta facendo delle operazioni di short long edge quindi delle operazioni edgeate diciamo così l'una con l'altra da una parte short all'altra long con cripto diversi è una strategia estremamente complessa che ho creato nel corso degli ultimi 5-6 anni direi questo è il risultato in questo momento tra le altre cose vedete alcune posizioni sono in lot e altre in super gain perché chiaramente sono l'una l'opposta delle altre quindi quelle in long sono in questo momento in loss mentre quelle in short per esempio questa ussolana è in fortissimo gain in totale questa trading system sta performando molto bene e voglio anche migliorarlo tra le altre cose è in academy ragazzi vi ricordo che l'academy è accessibile a tutti i corsisti del corso basic quindi vi lascio in descrizione intanto il link per iscrivervi al corso basic di trading on basic 2.0 che è anche i moduli di analisi ciclica e analisi ciclica inversa e anche i moduli di trading intraday e vi lascio anche il link di bitget ragazzi con il 15% di sconto mi date come sempre una mano sui ref se non lo state ancora utilizzando quindi volevo farvi vedere appunto queste operazioni se no che in academy oggi stesso ho indicato anche qualche altro longhetto di natura estremamente speculativa ogni tanto che faccio sempre con bitget non lo avete visto qui perché questo è un conto dedicato solo al trading system detto questo vi faccio vedere anche la struttura e la posizione invece ciclica di ethereum che è più debole su bitcoin ragazzi e a mio avviso proprio sul rapporto di forza relativa fra ethereum con bitcoin bisognerebbe ragionare fino a maggio 2023 e se volete per esempio anche su questo potremmo fare un video dedicato a una ipotesi che è estremamente complessa ed è anche molto difficile da un po' strutturare ma è un'ipotesi di un minimo a maggio 2023 per i mercati delle cripto se vi interessa questa ipotesi un po' no complottista diciamo così scrivetemelo nei messaggi scrivetemelo nei commenti del video youtube ragazzi se ovviamente siete in tanti che me lo chiedete facciamo anche questo video tra virgolette complottista sulla teoria del minimo di maggio sui mercati interessante comunque questa view andiamo a vedere il grafico di ethereum che ci indica ancora qui vedete qui la struttura a differenza di bitcoin vi ho fatto la struttura a tre mensili infatti vi faccio vedere invece quello di bitcoin l'avevo diviso a due quale giusta sono entrambe corrette quindi non ha appunto impatto il concetto di dividerle in un modo o nell'altro è più una manfrina mentale per noi ciclisti che ci piace fare poi gli approfondimenti ma sul video youtube non mi importa portarvi queste cose in dettaglio allora questa struttura è divisa a tre vedete i mensili più corti rispetto a quelli di bitcoin perché ne ho fatti due e la struttura è fatta in questo modo teoricamente guardate un po' mancherebbe ancora qui qualche giorno che porta appunto alla giornata del 7 di febbraio del 17 scusate di febbraio venerdì prossimo per la chiusura di questa struttura ciclica ancora una volta secondo me da questo punto in poi dove siamo arrivati in questo momento con il nuovo minimo anche di ethereum nella giornata di oggi il tempo quindi la ciclica non ci dà più informazioni se non che ci dice che a momenti dovremmo iniziare un nuovo ciclo trimestrale però siccome c'è ancora un lasso temporale che va da qui alla prossima settimana c'è la cosiddetta deviazione standard degli cicli non abbiamo operativamente un dato che aumenta le nostre probabilità in quanto dovremmo andare a scendere sui sottocicli in analisi di trading intraday per andare a provare a vedere se cambia qualcosa in linea di massima non cambia qualcosa a meno che non siete trader perciò in questo caso io vi consiglio di agire con analisi tecnica e cercarvi i vostri long e in questo caso a inversione di trend non sono consigli finanziari ma il corretto approccio di un trader che deve avere un trader in questo momento quindi ricercare quella che è la position più comune cioè la possibile ripresa long di un mercato ovviamente non lo fate in deep lo fate in inversione di trend così vi proteggete e mettete subito lo stop loss detto questo passiamo al grafico più figo diciamo così di oggi ma anche quello un po' più scemo così potremmo dire in il debt cross fra la media a 200 periodi e 50 periodi cioè 50 periodi e 200 periodi nel caso del time frame weekly mamma mia che cosa sta succedendo non è mai successo nella storia di bitcoin un disastro moriremo tutti arrivano i dinosauri eccetera allora ragazzi qui il significato oggettivo di questa situazione mi sarei aspettato un po' più perplessità insomma dal punto in cui a giugno 2022 questo questo breakout è avvenuto della media 200 settimane perché la media 200 settimane effettivamente non è mai stata intaccata da bitcoin ma una volta che i bitcoin brecca la media a 200 settimane va bene il debt cross che vedete in questo momento era pilotato tra virgolette cioè non poteva non avvenire perché a meno che bitcoin non fosse risalito immediatamente sopra la media a 200 periodi man mano la media a 50 avrebbe ovviamente intersecato la media a 200 periodi quindi questo debt cross non significa assolutamente nulla mentre invece il breakout della media a 200 periodi di bitcoin che si vedeva a giugno quello aveva un significato molto importante cioè il fatto che da qui da questo doppio massimo di cui abbiamo già parlato è la struttura che era andata al di sotto della media a 200 settimane per la prima volta nella sua storia probabilmente ci saremmo affacciati a un periodo differente rispetto al periodo delle bull run precedenti e quindi il mercato potrebbe effettivamente cambiare atteggiamento nei prossimi mesi ma qual è l'atteggiamento che possiamo aspettarsi aspettarci quando un asset finanziario incrocia una media mobile e c'è un debt cross come in questo caso qual è l'atteggiamento ragazzi sono due gli atteggiamenti uno inversione di lunghissimo periodo di trend del mercato cioè in questo caso bitcoin che ha invertito completamente la sua fase di trend rialzista magari di lungo periodo e va a crashare da qui in poi per sempre fino alla fine dei suoi giorni praticamente una cosa del genere quindi questo indicatore questo dato potrebbe indicare la fine del trend al rialzo di bitcoin e ritorno a 2 dollari 3 dollari quindi una cosa del genere oppure può indicare l'entrata dell'asset in un mercato cammello cioè quello di cui abbiamo parlato esattamente qualche settimana fa e non a caso vi ho spiegato quel tipo di mercato che per il 2023 e 2024 dovete tenere a mente ragazzi perché questo dato il primo punto diciamo la primo campanello d'allarme che ci mette è esattamente la possibilità che bitcoin vada a entrare nel cosiddetto mercato cammello cioè si stabilizzi non più in una fase di pump e dump così ma in una fase fatta in questo modo cioè più a mercato cammello in mercato di riflessione allora sono arrivato al 2028 qui ovviamente spero di no eccetera attenzione però perché se guardate bene la questione c'è anche da fare un forte diciamo riferimento a questa 25.000 dollari e non a caso anche lì sto bam 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 spingendo in testa questo dato dei 25.000 dollari come un dato molto rilevante per bitcoin perché il superamento di quel livello di resistenza è ovviamente la chiusura a livello dei l'aneno ma poi settimanale sopra questo livello più il prosieguo nei mesi successivi teoricamente invaliderebbe questo debt cross che a quel punto indicherebbe come vi sto dicendo che nel mercato si è spostato in una barra di congestione di lungo periodo non ha invertito ma è entrato in una congestione di lungo periodo che poi può assumere due tipi di significati cioè distribuzione di lungo periodo o riaccumulazione di lungo periodo di questo ne parliamo nei successivi video fatemi sapere se vi interessa l'argomento debt cross su quickly ma soprattutto mi raccomando non superficialità in queste cose non cercate tante informazioni che poi vi confondete ognuno dice la sua su queste cose ragionate con la vostra testa ma soprattutto fidatevi di quello che vedete e soprattutto analizzate i dati in maniera oggettiva debt cross in questo momento non indica un disastro ma indica l'ingresso in barra di congestione vedremo un po' cosa farà dopo ma 25.000 dollari resta il target da battere per oggi è tutto fatemi sapere un po' cosa ne pensate noi ci vediamo nel prossimo video ciao